L'operazione può risultare poco agitante. Primus semplifica tutto ciò, con la funzione, Bookmark. Prima di spostarti nel computo, dal menu locale, o con la combinazione Shift più Control più un numero da 0 a 9, inserisci un bookmark nel punto in cui sai di dover tornare. Ti sposti tranquillamente in un altro punto del documento, magari inserendo anche qui un bookmark. E torni velocemente al punto iniziale selezionando il bookmark, dal menu locale, o con la combinazione Alt più Control più il numero. Togli un bookmark deselezionandolo, o ripetendo la combinazione di tasti relativa. Oppure togli tutti i bookmark, con l'apposita opzione del menu locale.